Il parco Cavallino Matto si veste di Halloween. Tutti i fine settimana dal 5 ottobre al 3 novembre. Zucche, streghe volanti e il nuovo inquietante personaggio dell'Horror Forest, The Nun. Entra anche tu nella magica atmosfera con il nuovo spettacolo Crazy Halloween al parco divertimenti Cavallino Matto, Marina di Castagneto Carducci in Toscana.